amici benvenuti sul mio canale in cui parliamo di orchidee oggi parliamo di luce ci proviamo a parlare di luce di luce artificiale di come funziona un po la situazione allora quelle che vedete lì sono tre lampade artificiali per la luce artificiale per poter far star bene le nostre orchidee sono le spider farmer sf mille questa che vedete qua davanti a me è scritto anche è la mars idro mars idro questa è la lampada che avevo prima prima che facessi l'aumento di qualità e di potenza questa è una lampada se voi vedete che c'è un angolo inclinato un angolo inclinato in cui voi riuscite a immaginare che questi 100 watt che sviluppa questa marse idro è valida come lampada e questa si chiama la mars idro ts 600 sviluppa 100 watt anche quelle tre lampade lì della spider farmer sviluppano 100 watt la differenza è semplicemente che questa l'angolo inclinato come voi vedete e quindi avendo l'angolo inclinato riusciamo avere una copertura di 60 per 60 non la possiamo regolare l'intensità di questa lampada questa lampada sviluppa 100 watt è chiuso quindi voi dovete regolare con delle carrugole che vengono date in dotazione che io ho tolto ma che sono quelle che vedete la sua sopra queste sono delle carrugole che ci permettono di regolare in altezza la nostra lampada questa quindi potete giocare il discorso dell'altezza potete regolare l'altezza non potete però regolare l'intensità dei watt l'intensità di watt e accento fisso e chiuso il discorso allora qual è un'altra cosa importante tutti questi led sono led che sviluppano il colore caldo il 4000 gradi kelvin e il colore freddo il 6000 gradi kelvin e vi faccio vedere quello che intendo quelle che vedete la qui lampeggia tutto però se voi riuscite a vedere questi sono dei sottopensili dei led da sottopensile quando intendiamo il led 6000 gradi kelvin e la luce azzurra è quella a sinistra quella che vedete a destra la gradazione è calda quindi siamo sui 4000 3000 e 8 4000 quindi la gradazione dei gradi kelvin si misura in questo qui più la luce azzurra più andiamo su verso i 6.000 7.000 8.000 le luci delle macchine di certe macchine sportive è talmente azzurra la luce che andiamo anche su i 20.000 30.000 gradi kelvin quella la più gialla a destra siamo sui 3.008 o 4.000 gradi kelvin serve questa mixatura questo mixaggio insomma dalla luce azzurra la luce più calda proprio perché lo spettro per le nostre orchidee è uno spettro che va dalla luce blu alla luce rossa lo spettro della luce normale del sole include anche la luce verde ma la luce verde non è assimilabile dalle orchidee rispetto ai nostri occhi allo spettro visivo che vediamo noi quindi è importante che ci sia nello spettro luminoso di quelle lampade ci sia il blu e il rosso quelli che vedete su questa spider farmer sf mille che se abbiamo detto mille la sigla ma sono sempre 100 watt ogni lampada quindi 100 la prima sinistra 100 quella e 100 l'altra la parte rossa che vedete è l'infrarosso ir praticamente anche lo spettro dell'infrarosso chiaramente il costo di questa lampada marse idro è un pochino più basso mi pare che siamo sui 120 euro una lampada da 100 watt della marse idro siamo sui 170 e sulle spider farmer chiaramente la qualità del diodo cioè delle puntino di led è molto alto il puntino di led che sarebbero questi qui questa è una qualità inferiore infatti costa 120 euro la lampada quelli la sono gli ultimi della samsung lb 301 insomma sono i dio di led dei puntini i proprio i pezzettini di led che sviluppano tantissima luce quindi in proporzione una cosa importante lo sviluppo della luce la qualità del diodo che sta all'interno della lampada fa sì che quelle che voi vedete sono lampade che sviluppano tantissima potenza a 100 watt per 100 watt che succede che 100 watt di questa hanno un'intensità luminosa 100 watt di quelle hanno tutt'altra intensità luminosa per assurdo se questa sviluppa a un metro 10.000 lux e quelle a un metro ne sviluppano quasi 20.000 perché molto più potente il led all'interno della lampada una cosa importante di queste lampade che voi vedete che oltre avere il carrucolo la carrucola la manovella per poterle tirare su e giù vedete eccole qua queste due manovelle regolano l'altezza noi possiamo regolare anche la luminosità la potenza della luce quindi è dimmerabile guardate che significa che noi possiamo lavorare con questo interruttore qui e in questo momento qui noi stiamo andando al 70 per cento questa è una cosa importante perché possiamo regolare non solo l'altezza con le carrucole se le becco eccole qua quindi non dobbiamo solamente lavorare in altezza ma possiamo lavorare anche in potenza quindi per noi questo è importante perché possiamo andare o al massimo che sono 100 watt 80 60 40 20 watt e possiamo regolare e di conseguenza il flusso della luce cambia completamente fino a che la luce è quasi spenta se guardate a confronto quando andiamo su possiamo andare su fino al 100 per cento la luce ne è tantissima queste lavorano praticamente al 70 per cento quindi sviluppiamo 70 watt e monotale che alle piante poi possiamo dare la giusta quantità di luce il discorso delle lampade un discorso importante e queste che vedete che lampeggiano non le inquadro più di tanto guardate la la scala è semplicemente perché tre giorni che piove ed entropium ho dovuto fare una cosa di emergenza se metto su tutte le lampade qui penso che faremo una discoteca cioè una marse idro qua altre due marse idro nascoste qua a casa diventata ci posso fare le lastre qui a casa allora la cosa importante è che questa qui e sono 100 watt fissi su 60 per 60 molto di più non riuscite potete arrivare a 70 per 70 centimetri quadrati con quelle lì che non hanno l'angolo inclinato come questa ma è una luce piatta io riesco a coprire 90 per 90 ecco la differenza importante all'acquisto come primo acquisto sono partito con questa 100 watt angolo stretto 60 per 60 70 per 70 stop con questo riusciamo arrivare a 90 per 90 ma io riesco a fare anche un pochino di più perché tutta la tavola lì comincia a essere quasi un metro ottanta quasi due metri e poi va anche fuori ci sono piante anche in terrazzo quindi io riesco a coprire tranquillamente i miei 90 per 90 è quasi un metro quadrato dopo chiaramente dipende anche dalla tipologia di piante cerco di non metterle molto pressate molto vicine però capite voi che come io compro un'orchidea aumenta il numero di piante e quando andate a guardare i canali in cui spiegano tutta l'illuminazione in realtà vi dicono sì 60 per 60 centimetri quadrati però loro fanno anche un altro tipo di discorso non guardano solo i centimetri dicono tu con 100 watt più di totte piante non puoi allora ecco che uno dovrebbe aumentare dovrebbe arrivare a 200 watt 300 watt 400 watt in modo tale che poi copri una superficie molto più grande vabbè io ho trovato un equilibrio in cui riesco a gestire tutte le mie piante all'interno con questa dose di luce anche la fegge sta lì praticamente quella e tutto l'inverno è stata aggiosa lì sono sommerso dalle piante e via diciamo così domani è tempo buono riuscite tutti fuori e zitti al sole adesso ho fatto due giorni di acqua in quantità industriale ho avuto pietà di loro anche perché stanno quasi nella parte finale del semiriposo li ho rimessi dentro quindi questa tipologia di lampada è dimirabile potete valutare di acquistarla io l'ho presa su amazon è l'unico rivenditore di queste lampade amazon e lo trovate direttamente lì e se non le volete prendere ad amazon volete andare direttamente su spider farmer o marze idro avete poi la spesa di spedizione perché non sono aziende che lavorano in italia hanno la serie anche in italia però loro sono aziende che producono all'estero e quindi poi già il trasporto e tutte le spese di spedizione vabbè valutate io lo prese su amazon perché ho fatto prima anziché ordinarle aspettare i giorni con braim non c'ho le spese di spedizione quindi secondo me alla fine non è eccessivo attenzione questa lampada che vedete la spider farmer sf 1000 e stop non è la sf 1000 d perché la sf 1000 d costa un pochino di meno perché non ha i diodi led quelli della samsung che sviluppano alla fine se voi andate a prendere il modello di sf 1000 d praticamente avete la stessa potenza della marse idro infatti il costo è di 120 euro contro 170 euro valutate l'illuminazione artificiale perché l'ultimo discorso che faccio ma ci sarebbe da discorrere per ore 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 allora il lux meter indica la luminosità guardate come funziona in italia in america al modo di ragionare sulla luce lux meter indica quello che noi quando compriamo un'orchidea questa l'orchidea vuole 15.000 lux e 20.000 lux e lavanda 50.000 lux e la cateleia 50.000 lux e il bulbophyllum 15.000 lux e la phalaenopsis allora è tutto un mondo che si regola in base ai lux meter vedete qui dove sto parlando io anche se c'è luce ma qui ce n'è 75 lux qui non vive niente proprio niente 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 i lux e se volete valutare il discorso di luminosità in potenza per le piante in base a quando le acquistate che vi dicono questa sviluppa questa ha bisogno di tot mila lux se volete fare il discorso americano è il ppf e il dli che indica la luce dal punto di vista non della lampadina ma dal punto di vista della foglia cioè come la foglia interpreta la luce nel lux intendiamo la misura di come la interpreta la lampadina nella foglia è come la interpreta la foglia stessa quindi è la foglia stessa che dice se ha un bisogno di intensità di luce dl e p e ppf di indicano praticamente queste due queste due voci ppf di dl e indica quanto pacchetto di fotoni arriva sulla foglia perché ti dice il ppf di su ogni centimetro quadrato quanti fotoni la pianta riceve per poter fare la fotosintesi diciamo loro sono un pochino più avanti come congetto perché il led richiede questo non abbiamo più la lampadina da 100 watt 200 watt come una volta la lampadina con il filamento abbiamo il led e siccome il led ti dà tutto lo spettro completo queste lampade danno tutto lo spettro completo della gamma dei colori questo è come se fosse la luce solare questa lampada queste altre due danno la luce del sole queste due come sto io è un mix che ho fatto io di una luce fredda luce calda la pianta prende quello un paio di soli e chiusa la storia queste danno l'intensità è la esattamente stessa luce che prenderebbero con il sole è la stessa gamma di colore del sole allora ecco il discorso che il ppf di ti dice quanti fotoni per fare la foto sintesi la pianta prende su ogni centimetro e questa qua è un'altra voce che ti dice il daily light integra ci ti dice anche durante la giornata quanta intensità di luce ha bisogno perché qui ti dice in questo centimetro di medi di centimetro che abbiamo un centimetro su un metro quadrato la pianta ha bisogno per fare la fotosintesi di questo valore qui ppf di che bene viene calcolato in micromolle vedete c'è una m rovesciata micromolle metro quadrato per secondo cioè ti dice il pacchetto di fotoni che la pianta riceve e ha bisogno di ricevere per poter fare la fotosintesi invece qua ti dice molle metro quadrato al giorno ti dice ogni giorno alla come se fosse quando prendete un integratore ve lo spiego in modo così riuscito a fare mente locale l'integratore di dice dovete prendere questa la dose rda la dose raccomandata ogni giorno ogni giorno dove dovete prendere questa dose che ne so un grammo di vitamina c se prendete qualunque altro tipo di integratore dovete prendere la dose raccomandata ogni giorno questo dl i daily light integra vi dice quanta quanti grammi diciamo così di luce di ricevere la pianta ogni giorno e questo è molto importante quindi questo è il ragionamento della questione vista dal punto di vista vista dal punto di vista della foglia questa è la questione vista dal punto di vista della lampadina quindi abbiamo un modo diverso di intendere quando noi oggi intendiamo il luxe quanti luxe ha bisogno la nostra orchidea è un modo diciamo un po' antiquato di intendere perché oggi dobbiamo fare questa valutazione in base al ppf di foto sintetica al photon eccetera eccetera e alla quantità di luce di questa quantità di fotoni per fare la fotosintesi ha bisogno durante una giornata due unità di misura diverse ma tutto questo non nasce per le orchidee in america nasce per la cannabis quindi uno deve andare a vedere i video della cannabis e poi capire il ragionamento perché non c'è nessuno che fa un discorso del genere per quello che riguarda le orchidee però se ne date un pochino di meno io l'altro giorno ho fatto un video in cui vi ho dimostrato che queste falenopsis in fibra di cocco stanno bene a metà tra una lampada e l'altra lampada nonostante tutto li prendono 3000 lux che è basso perché loro hanno bisogno almeno di 10.000 15.000 lux però fioriscono quindi che succede che c'è dietro a un discorso della luce un mondo un mondo da capire perché quei 3000 lux li ricevano per 13 ore la falenopsis ricordatevi sempre non è che se gli date una botta di luce lei è contenta lei ha bisogno di poca luce per tante 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 ore la falenopsis per come è strutturata a livello fogliare se gli date tanta luce un'ora non serve assolutamente nulla se gli date tanta luce cinque ore non serve assolutamente nulla bisogno di poca ma tanta durata perché la assimila lentamente la luce proprio perché è una pianta da da ombra però nonostante che è da ombra che lei ha bisogno di 15.000 lux 10.000 lux a 3000 e questo è il risultato quindi secondo la mia opinione se ci teniamo bassi come luce poi lo vedete perché se il colore delle foglie comincia a diventare rossastro avete superato i limiti possibili ricordiamoci in america tutto nasce queste sono lampade specifiche per la condivazione della cannabis per scopi di salute per la salute di chi ha bisogno di quello che è presente come contenuto nella cannabis per curare varie malattie però per quello riguarda le orchidee vale sempre la stessa tipologia di discorso che se ne leviamo un pochino di luce e la diamo un pochino più diffusa non è che gli faccia poi male comunque a me fioriscono tutte il discorso la luce un discorso un po complicato spero di avere esaurito un po io penso che potevo fare quattro video o cinque video ogni volta a spiegare qualcosa ho preferito fare un unico video farvi un po vedere la situazione se non volete spendere tanto ci sono questi led che vengono messi sotto i benzeri della cucina questo è lungo un metro e 40 un metro e cinquanta sviluppano 25 watt quindi se andate a quell'altezza lì chiaramente questi sono modelli economici queste lampade che vi sto facendo vedere a questa altezza che sono 40 centimetri sviluppano niente sviluppano 3.000 3.000 lux mentre quelle che vedete voi la queste a 60 centimetri cominciamo a stare già a 16.000 17.000 lux e stanno al 70% come vi ho fatto vedere insomma se accendo tutto cioè faccio la grigliata con gli orchidelli sopra perché proprio preferito fare questo per un discorso di risparmio perché in questa maniera io ho 7 14 21 cioè 210 watt anziché come era prima con tre lampade avevo 300 watt quindi ho un risparmio risparmio che poi un giorno se vuoi aumentare la mia quantità di piante ne metterò un'altra e via quindi tre lampade della marse idro 100 100 e 100 mi sviluppano 300 watt io qua ne ho praticamente 210 7 14 21 210 watt accesi quindi anche un po per il discorso del risparmio energetico e questa la valutazione è un pochino importante da fare io spero di aver detto tutto fatemi un commento non so se ho tralasciato qualche cosa mi dovevo buttare a fare il discorso della luce ci ho provato e poi vi lascio in descrizione il modello delle lampade così potete vedere quello che ho detto o grazie di avermi seguito spero di non avervi annoiato poi va beh ditemi qualcosa nei commenti ce l'ho messa tutta ho studiato a presto a presto grazie di avermi seguito